ma che è un'altra cosa? oh! 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 andate a quando! bravo! ma le ce l'hai? bravo! dietro e spalle! ah! ah! buona guido! buona guido! go! si! oh! bello ha detto! uuuuuh! uuuuh! uuuuh! bravo! ce l'hai in univa è fermo! e qui a fuori gioca, ecci, ecci, ecci! go! c'è un cuore! ma che rientra, avanti! rientra subito! vabbè, vabbè! ehi! vabbè! 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 sali, sali, mica è, sei in aria no, no, no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Vedi che?